Quando cadi fa male Ma quanto siete bravi col tiro a bersaglio? Beh basta calcolare insomma qualche cosa Un po' basta prendere un po' la mira Ok beh perché oggi abbiamo con noi il tiro a bersaglio E' fantastico perché uno di noi si dovrà sedere qui in questo scabello Dopodiché gli altri dovranno tirare la pallina Non appena la pallina e colpirà il bersaglio Guardate che cosa succederà Cadrà in acqua Ma no 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 venite qua Venite qua ragazzi Venite subito qua Voi sarete i concorrenti Qui c'è la pallina pronta Ma come noi anche tu guarda che giocherai Sofì io devo fare il video No 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 facciamo la turno Fa un passo avanti chi vuole iniziare per primo Romeo bravissimo E' il tuo momento Ah devo lanciare la palla Ok sì sì certo No 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 sei in uso Guarda ti mostro qui guarda Ho visto che già c'è una scaletta comodissima Per un accesso comodissimo Guarda Puoi alzare questa parte qua così Ok perfetto Ti puoi sedere Accomodati Doveva essere divertente questo gioco Ma è divertentissimo Sarà incredibile E poi c'è un po' di caldo no? Sì sì ma la qua è tipo meno 27 gradi E' un po' fredda devo dire Ma è gelita Beh è fresca ma è estate È estate Già è tipo molto complicato entrare qua Ma devo mettere i piedi No No e devi sederti qui Oh Vuoi una mano? Non so se fidarmi Eh Romeo 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 Mi prego Stai tenendo un po' d'ansia No 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 cosa stai facendo Allora E' alto lì Bellissimo Un gioco divertentissimo Andiamo a mangiare E' vero E vai Ciao Ti lasciamo qui Ciao Ragazzi Romeo Che è successo? Stai tranquillo Stai salendo Non so Una sensazione di ansia Ma sei sul WC? Stai facendo le tue cose? Romeo Senti che è morbido Sei troppo sano No 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 Allora Importante ragazzi Una pallina va tirata qui nel bersaglio E no Il nostro Romeo Non è Romeo il bersaglio Ok E se si inclinerà la X E non succederà E il nostro Romeo cadrà in acqua Dai 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 Sono super curioso di iniziare Ma prima ragazzi Noi vi ricordiamo che uscita la nostra nuova canzone Cicamala Sul nostro canale musicale Me contro te music La nostra canzone insieme a Perfidia Sono la Cicamala Ecco qua le Cicamale Correte ad ascoltarla Condividetela con tutti E non vediamo l'ora di cantarla al nostro concerto Infatti il prossimo anno ritorniamo col tour Insieme a tutti i nostri amici Ci scateneremo insieme I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ma adesso per il nostro Romeo È il momento di fare un bagnetto Noi abbiamo già le nostre palline in posizione Ma sarà difficilissimo Cioè Le probabilità di colpire proprio questa X Saranno bassissime Chi sarà il primo a laggiare la pallina? Vai Sovì Guarda io Vai Sovì Vai Sovì Ma io ho una mira pessima Lo sappiamo Eh vabbè ci provo Ci provo Tanto poi io confido in Lili Lili è bravissima con le mire Ok Vai Oh mio Dio è bruttissima Ok sei salvo Sei salvo Passiamo al secondo tiro A chi tocca adesso Lili è pazza Lili è impazzita E' impazzita Lili è pazza Io qui eh Non tirare Ok 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 Se non dovessimo più vederci Addio Ecco la pazza Vai pazza È il tuo momento No Hai lanciato Hai colpito il bersaglio Ma non era abbastanza potente Devo andare di più in palestra Ok Devo essere più forte Dai 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 Cleo metto a me Ok Cleo Cleo è il tuo momento Ci siamo quasi Dai 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 Ci siamo quasi Vado Vai con potenza Sì ma qua non cadi dall'acqua Non va bene questa storia Eh ma non è detto che per forza uno deve cadere Magari cade qualcun altro Ecco Vai lui Ce la posso fare Ce la posso fare No Non ci credo Divertente questo gioco Bravi 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 Dai allora tocca al prossimo Come va? Come va? Fresca Scusami Romeo ho sbagliato Mi sono appoggiato per sbaglio Oh no Adesso tocca proprio a lui Io se fossi te mi vendichierei Non ballare con la posta Romeo mi devi scusare Mi sono appoggiato per sbaglio Ma non è la colpa mia Ho una domanda Avete organizzato l'ingresso Come si esce? Effettivamente È un buon problema uscire Non ti avevamo detto che adesso rimarrai lì per sempre Vabbè se vuoi puoi risalire nello scabellino Troverò una soluzione Ok Scopriamo che è il prossimo che si siederà sulla macchina della tortura Dobbiamo fare un numero ok? E poi contiamo chi esce va Ok Io ho perso Sofì Io ho perso Sofì Uno Due Cinque Dieci E otto Nove Dieci Ho già detto No Sofì Sofì Mi dispiace della matematica non è colpa mia Per favore Non prendere la mira Non prendere la mira Ok ci proverò Ok Mi dispiace Sofì Mi dispiace Sofì Con una faccetta così almeno non si bagna Piccolina Ti metto di lato Almeno tu che puoi salvati Ci sei? Ho paura di scivolare già adesso Come va lì su? Ho visto che le avevi in acqua Sì 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 ma non ti preoccupare che poi il resto sarà ancora peggio Ma quando cadi fa male? No Ma mi bagliano i capelli? Perché guarda sono lisci Secondo me sì Sofì Piccoli capelli Spero tanto che non colpiscano il bersaglio Che inizia a tirare Vai Cleo Vai Cleo Vai Cleo Vado io? Via 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 Vai 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 Grazie 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 Per fortuna Ti adoro Cleo Non vorrei che qua le ragazze si stanno un attimo qualizzando Perché questa mira era molto Vai Romeo Vai Romeo Là c'è la pallina Devo calcolare bene le mie Non calcolare niente Non calcolare Non calcolare Ti prego Non calcolo Non calcolo Sì sì le traiettorie Vai 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 Come è che ci ci vieni E' bruntissima E' gelida E' tutta piena di pimpi moscerini Addio la mia piega Adesso me la pagherai Me la pagherai Quando riuscirò ad uscire di qui Perché io ci riuscirò Ci sarà un puro Un modo Ok Così Ok Devo fare così Salto su Poi Ok ci sei? Sì 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 Sicura Non mi sembri In modo atletica Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta E mi rimetto la fascetta Romeo io ti consiglio di scappare Ma sai che questo costumino ti sta proprio bene? Io spero non avevi il telefono in tasca No no Ma sai che quasi quasi un bel bagnetto me lo faccio Ma perché quell'acqua è più calda Quella lì invece è gelida Ok adesso tocca a Lili 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 dove stai scappando Lili Ma io sono troppo bassa Non ce la faccio ad arrampiccarmi di Ce la fai benissimo Ce la fai Ce la fai Dai dai Ma soprattutto Essendo un pochettino più bassa La caduta sarà ancora la più in alto Ehi guarda che ti sento Sei tutti noi Sei tutti noi Sì la metà di voi Dai 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 È fredda l'acqua? Non ci tocco neanche con i piedi Non ci arrivo Chi lancia per prima la pallina? Topi Prego Io vai ci provo Via Nooo Buonissima mira È gelida Con me puoi stare sicura Io Bellissima Vai Nooo Nooo Mi la puoi facerci Mi mancava poco Bravola Ci voleva gestire un po' di potenza in più Ha colpito il bersaglio Ma non è caduta Non ci credo Dai Romeo Ti tengo d'occhio Ha portato fortuna quindi Yeah yeah Ne 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 Nooo Nooo Mi sa che qualcuno qui vincerà Mi sa che vincerà Non ci credo ragazzi Non possiamo farla tornare a casa asciutta Deve anche lei cadere in acqua Lui devi provarci tu Ok è il mio momento Faccio il mio tiro super saian Dai 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 Lui 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 Nooo Non ci credo Lili è rimasta asciutta Quindi puoi scendere da lì Senza essere Sì Nooo 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 Questa me la pagherai su dai dai ye ye nininini fallo per il team trote che ti sta guardando solo per il team trote adesso ci sarà lini e romea che hanno una mira infallibile ma perchè? cosa sta succedendo? su su io rimango così va bene? no no devi sederti in punta ma certo ok stai per rinfrescarti le idee siamo a guerrice e noi siamo spazio zuppati adesso vogliamo far tuffare anche lei lei l'ha colpito il vostro bersaglio perchè siete a guerrite contro di me? dai mi rifrescarai anche tu fidati è divertente lancio prima io vado vai soffi con la tua mira si va bene ma dove hai tirato? con me puoi stare tranquilla ok vai lili lili no adesso te lo faccio vedere io no no ma sei bravissimo ma sei buonissimo come va? ti sei rinfrescata le idee ragazzi buongiorno ho bevuto metà dell'acqua e dei moscerini che c'erano qua dentro è stata molto divertente ma adesso tocca a lui no per favore no certo tranquilla le faccio io le riprese dammi pure la videocamera ci penso io no no vi prego sono bravissima no ma perché devo farla anch'io è certo che devi farla anche tu ma io sono il cameraman abbiamo fatto tutti sono io adesso il cameraman l'acqua è un po' fredda ragazzi lo sappiamo bene mi chiedo scusa 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 non è vero comunque lui è freddoloso adesso morirai di freddo per favore per favore mi chiedo scusa ma io sono bassa è la nostra tiratrice setta mancava pochissimo e ora il più forte della squadra il più forte il più cattivo e vai il più temuto il più temuto come dicevi prima prima mi ha lanciato in acqua senza neanche la pallina quindi vai 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 devi vendicarti ciao ciao Luì che è successo sono scivolato per la vibrazione ma non vale devi ritornarci devi ritornarci questa cosa è ingiusta però ok non vale non vale ti hai scivolato da sola praticamente va bene va bene sono risalito ecco vedete sono qui sopra lo scabellino ok tocca di nuovo a te Romeo riprovaci no no Romeo si è tirato no Romeo deve ritirare si 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 forse questa volta come è potuto succedere bravo beh sì la seconda volta poi basta mi dispiace lui adesso ho fatto come hai fatto te venditelo l'acqua ragazzi questa me l'ha pagata ok sì certo ciao noi mi mandiamo un bacione gigante ci vediamo domani con un nuovissimo video ciao